Questi finalisti nella 340 sprint agli Evi Maschi Parti adesso la loro prova Sforzo immediato per poter migliorare la propria posizione all'interno del sestetto di finalisti C'è un allungo portato in modo molto prepotente dalla concorrente della Polisportiva Mie Belluso Siamo all'epalto E' un allungo sull'antremardo che va a completare l'Ondri